Musica All'oggi ERP si unanime alla nuova legge che adegua i limiti di costo degli interventi. Stadio Franchi, il presidente della regione Eugenio Gianni, risponde all'interrogazione di Stefano Scaramelli. Letteratura e legalità, il Festival del Giallo parla ai più giovani, incontri e iniziative a Pistoia dal 14 al 17 aprile. Il Consiglio regionale adegua il costo dei lavori per gli edifici ERP. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità la modifica della legge regionale che fissa i limiti massimi di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica, adeguandoli ai maggiori costi dell'inflazione e dell'aumento delle materie prime. L'atto è stato illustrato in aula dal presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali Enrico Sustegni. Una leggina abbastanza semplice ma importantissima. I lavori di ristrutturazione delle case popolari si stavano bloccando, anzi si sono bloccati in tante parti, perché per gli ERP c'è un limite al costo che si può sostenere nelle ristrutturazioni, che è stabilito da un decreto ministeriale che la giunta regionale ogni anno riadotta. Questo limite di costo, a causa dell'inflazione, diventava ogni anno troppo basso e quindi faceva sì che poi non si trovavano le ditte per fare i lavori, rallentando l'adeguamento di alloggi ERP. Noi sappiamo quanto sia importante la ristrutturazione dell'alloggio e quindi dare una risposta ai nostri cittadini. Con questa legge diciamo che la giunta può ovviamente rispettare i limiti nazionali che ci possono essere a partire dal decreto del 1994, ma qualora vi è un aumento dei prezzi può usare come limite massimo il preziario regionale che dallo scorso anno vede un adeguamento dei prezzi non solo a volta l'anno ma anche all'interno dell'anno e che quindi è aggiornato su quello che è l'andamento inflattivo. Quello costituirà il limite massimo di costo che si può utilizzare e che si può sostenere per l'alloggio ERP e che dovrebbe essere assolutamente adeguato in linea con i prezzi e quindi ci permetterà di far ripartire tanti cantieri che ora sono bloccati. La normativa nazionale stabilisce che le regioni provvedano a definire i costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia sovvenzionata e ha recentemente disposto che le regioni provvedano all'aggiornamento anche infranuale dei rispettivi prezzari dei lavori per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi, dei materiali e dell'energia. L'aumento del costo delle materie prime e non soltanto che è avvenuto in questi mesi è sotto gli occhi di tutti, questo immobilizzava di fatto tanti appalti pubblici anche in ambito di edilizia e residenziale pubblica e quindi era giusto che la regione, anche la regione toscana, intervenisse cambiando le regole rigide che erano previste per legge appunto rispetto all'acquisto delle materie prime in ambito ERP. Quindi abbiamo in maniera convinta votato a favore di questo adeguamento normativo che fa sì che anche la regione toscana si stia al passo con i tempi e si stia dentro un contesto attuale che è un contesto, ahimè, da questo punto di vista completamente diverso rispetto a un anno e mezzo fa. In Toscana abbiamo un poco meno di 50.000 all'oggi ERP, di questi 3.000 sono vuoti perché non ci sono i soldi per metterli a norma. Ma noi pensiamo che si possa intervenire vendendo un po' di alloggi popolari a chi già ci sta dentro, ovvero dando la possibilità di riscattarli. Con quei soldi si possono mettere a norma gli oltre 3.000 alloggi dell'edilizia popolare pubblica che non sono sul mercato e che quindi non possono essere messi a disposizione delle migliaia di toscane e toscani che invece hanno diritto a entrare dentro quegli alloggi. 3.000 alloggi vuoti significa circa 10.000 toscani che avrebbero diritto a una casa popolare e che non la possono avere perché non ci sono i fondi a sufficienza per ristrutturare gli alloggi già presenti. Noi diciamo vendiamone a chi già ci sta dentro 1.500 e con quei 1.500 che diamo a chi già ci abita e quindi li facciamo riscattare possiamo ristrutturare gli altri 3.000 che vanno a chi ne ha diritto. Sicuramente l'aumento, anzi la rimodulazione del prezzario è stata necessaria dal fatto che appunto il costo delle materie è aumentato enormemente, ha fatto sì che molti appalti non fossero più sostenibili ai prezzi precedenti ma viene da considerarsi anche il combinato disposto. L'aumento dei prezzi collegato al fatto che l'edilizia popolare in tutti questi anni è stata fortemente trascurata anche dal punto di vista finanziario dalla Regione ha fatto sì che adesso ci si ritrovi a presentare una proposta di legge che cristallizza un aumento, un esborso enormemente aumentato da parte della Regione per rimettere in sesto degli appartamenti e degli immobili che lo ricordiamo come è stato denunciato anche da Sunni a CGL a gennaio sono moltissimi in pessime condizioni e soprattutto 4.000 di essi aspettano di essere riassegnati alcuni dei quali anche perché in condizioni non accettabili per poter essere dati ad altre famiglie non si può appellarsi adesso a un governo che è di matrice politica diversa dalla propria senza ignorare che nei decenni precedenti il Partito Democratico questa maggioranza ha potuto operare sia in Regione sia a livello parlamentare per poter rimediare a un piano case adeguato per tutte le Regioni quindi è assolutamente strumentale questo modo di fare abbiamo sicuramente votato a favore perché è l'unica soluzione in questo momento per riuscire a dare a tante famiglie bisognose degli appartamenti Stadio Franchi, interrogazione in aula il Comune di Firenze ha fatto bene ad attivare il PNRR per la ristrutturazione dello Stadio Franchi e fa bene a cercare di rivendicare quelle risorse che fino a questo momento avrebbe acquisito quasi 200 milioni lo ha detto il Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni rispondendo in Consiglio regionale a un'interrogazione del consigliere Stefano Scaramelli sulle risorse del PNRR e sul progetto dello Stadio Comunale dove gioca la Fiorentina di Serie A nell'atto si chiedeva, tra le altre cose, se non sarebbe stato più opportuno investire le risorse in altri interventi per il territorio è stata posta l'interrogazione dicendo ma si potevano spendere meglio in altro modo il ragionamento è apparentemente di buon senso ma le procedure con cui il PNRR, ovvero il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per come fu impostato dal Governo Conte II, per come è stato seguito poi dal Governo Draghi e per come ormai da mesi viene seguito dal Governo Meloni prevede che a livello nazionale si fanno, sulla base degli indirizzi di una cabina di regia della Presidenza del Consiglio, dei bandi da parte dei vari ministeri allora è evidente che se a me venissero dati ai soldi alla Regione mi venisse detto questo quid sono gli interventi per la Regione Toscana io potrei scegliere la priorità e potrei dire è meglio investirli in quello o in quell'altro argomento prima che uno stadio ma noi in realtà questo non lo possiamo fare noi dobbiamo seguire dei canali che sono i bandi che i singoli ministeri sulla base del documento approvato il 30 aprile del 2021 dal Parlamento attivano. In questo caso se è stato attivato un finanziamento per 100 milioni sulla base della missione I capitolo III, ovvero i beni culturali lo stadio è un bene culturale significativo, è una delle prime opere col cemento armato su impianti sportivi dell'architetto Pierluigi Nervi architetto e ingegnere e quindi è alla base dell'architettura razionalista degli anni 30 a tutti i presupposti e le caratteristiche di originalità la tribuna sbalzo, le scale elicoidali, la torre di maratona per essere finanziata ha fatto bene il Comune di Firenze a attivarlo ma non è confrontabile sullo spendere i soldi in altri modi lì o partecipi a quel bando o non partecipi, ha partecipato, ha vinto e quindi fa bene ad andare avanti. Le risorse se non le spendiamo per lo stadio lo Stato se le riprende e vorrà dire che procede ad assegnarlo ad altri in quelle linee di finanziamento Era corretto che il Consiglio regionale affrontasse una questione così delicata 200 milioni di euro su un intervento pubblico su uno stadio dove giocano società professionista, era importante che si discutesse noi siamo convinti che questi interventi debbano essere effettuati dai privati per questo abbiamo interrogato il Presidente della Giunta per comprendere la propria opinione per far capire che se verranno ridiscussi le risorse del PNRR è corretto e doveroso che non vengano utilizzati ulteriori soldi pubblici si lascia spazio ai privati per fare questi interventi le risorse pubbliche vengano invece destinate per dei settori che secondo noi hanno maggiore necessità penso alle scuole, penso al sociale, penso ovviamente alla cultura e allo sport ma quello sì, diffuso, dove tanti ragazzi e tanti giovani fanno attività sportiva non soltanto a Firenze ma anche tutta la Toscana quindi per noi l'esigenza era di puntualizzare questo aspetto di esprimere il nostro punto di vista differente e soprattutto incalzare sul fatto che debba esistere una regia di carattere regionale sulla programmazione degli interventi e la Regione a nostro avviso ha il diritto e il dovere di intervenire in questa materia si deve ripartire dai 150 milioni più i 50 quelli che hanno scatenato un po' il putiferio a livello soprattutto toscano ma fiorentino in particolar modo e cioè quello di andare in un'area che ha bisogno di essere riqualificata non mi sembra che Campo di Marte abbia bisogno di questo ma l'errore è quello di definire l'intervento sullo stadio una riqualificazione di un'area si riqualifica solo ed esclusivamente lo stadio perché tutti quelli che sono poi dopo che è il progetto e cioè l'area commerciale la tramvia il sottopasso del Viale Paoli non rientrano in questi 150 o 200 milioni per cui si va a fare un investimento di 200 milioni in uno stadio che poi dopo non sarà usufruibile non sarà perché ci sono due componenti fondamentali per l'UEFA per definire uno stadio a livelli eccellenti cioè la viabilità e la sicurezza passi per la sicurezza ma credo che la viabilità poi sarà un grande problema proprio per arrivare allo stadio credo che potremmo trovare una soluzione completamente diversa perché lo stadio avrebbe bisogno sicuramente di essere rimesso a posto e riqualificato ma non deve perdere quella che è la sua identità proprio di bene culturale un intervento su questo e lo stadio nuovo visto che abbiamo un investitore privato che è disposto a metterci 250-300 milioni per farlo nuovo si deve trovare un'altra area per farlo questo è il mio pensiero Il Festival del Giallo torna a Pistoia dal 14 al 17 aprile Il Festival del Giallo torna a Pistoia dal 14 al 17 aprile la tredicesima edizione è stata presentata a Palazzo del Pegaso sarà una full immersion nelle atmosfere del giallo e noir in collaborazione con l'associazione Amici del Giallo di Pistoia che ogni anno raccoglie a Pistoia gli appassionati del genere da tutta la Toscana raccontare il crimine, raccontare la legalità è il tema scelto per questa edizione i luoghi del Festival del Giallo saranno il Teatro Bolognini, il Teatro Manzoni la Sala Maggiore del Palazzo Comunale l'Auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio e la Galleria Vittorio Emanuele l'ingresso è libero Il Festival non si è mai fermato 13 anni di attività e anche con la pandemia è riuscita ad andare avanti infatti ha avuto la fortuna nel 2021 di fare l'edizione appena prima lockdown e poi l'anni successivi negli spazi consentiti per le conferenze porta al centro ovviamente noir, thriller e tutti i generi del crimine e devo ringraziare l'associazione Amici del Giallo per il lavoro costante e prezioso che riescono a fare e dare un contributo importantissimo per la cultura alla città di Pistoia Tra i tanti ospiti quasi 30 scrittori del panorama letterario italiano anche Walter Veltroni politico giornalista, scrittore e regista che sarà intervistato da Luca Crovi e Lirio Abbate, giornalista antimafia caporedattore di Repubblica autore di cinema, radio e tv che combatte da sempre per la legalità attraverso le sue inchieste giornalistiche Saranno al festival anche gli scrittori fiorentini Leonardo Gori e Marco Vichi con i loro libri e personaggi di successo il giornalista Stefano Tura inviato di guerra corrispondente RAI da Londra e responsabile della sede RAI dell'Emilia Romagna presenti anche Franco Forte scrittore di romanzi storici direttore editoriale della collana Giallo Mondadori giornalista, editor, autore di serie tv e Guido Silver Silvestri il papà dell'amatissimo Lupo Alberto lunedì 17 aprile giornata conclusiva vedrà un incontro al Teatro Manzoni sul tema riflessioni e parole contro le mafie aperto agli studenti e alla cittadinanza a cui prenderanno parte il dottor Giancarlo Caselli il professor Enzo Ciconte e il colonnello Edoardo Marzocchi della Guardia di Finanza a livello di fumetti stanno dando molta importanza come tutti gli anni perché è un argomento che si è visto che piace e faremo un ricordo di uno dei personaggi più grandi del fumetto italiano che era Luca Boschi che dall'altro è un nostro cittadino e pistovese e quindi faremo un omaggio a lui e poi avremo scrittori ne abbiamo tanti da Paolo Roversi da Andrea che quest'anno in televisione è andato con il commissario Malinconico e lui sarà l'ospite di chiusura del festival poi avremo Franco Forte direttore elettoriale della Mondadori sempre presente ai nostri eventi e poi tutta una lunga serie di scrittori Si terranno anche i consueti concorsi legati al Festival del Giallo il primo Pinocchio Sherlock prevede il confronto tra tre autori di romanzi gialli sottoposti ad una giuria di giovani lettori la cui premiazione avverrà domenica 16 aprile alle 11 alla Biblioteca San Giorgio con gli autori in gara Barbara Perna Antonio Fusco e Simone Innocenti conduce Matteo Moca interviene Pier Francesco Bernacchi presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi a seguire alle 12 ci sarà la premiazione del concorso investigatori a scuola con Giuseppe Golisano e con la partecipazione del rappresentante di Banca Alta Toscana ospiti Wolf Dorn e Giacomo Faenza investire in lettura vuol dire investire in cultura investire in cultura vuol dire investire in libertà e dal 14 al 17 di aprile Pistoia sarà la capitale del giallo italiano un luogo di incontro di confronto un modo per avvicinare anche i più giovani bella l'iniziativa di lunedì 17 alla lettura e al giallo e penso che un'istituzione come la nostra debba sostenere progetti come questi un grazie al presidente Previti un grazie a tutta l'associazione perché ci ha creduto anche nei momenti più difficili grazie a tutti Grazie a tutti.